lo sapeva che era una cosa bruno lo sapeva infatti i ragazzi già oggi mai allora tagli e cavoli in sicilia si mangiano faciste una coda di tagli no basta col cavolo col cavolo ragazzi capito questo cavolo purtroppo cavoli e tenerumi sono solo d'estate guardate ragazzi 16 gradi quindi guardate però bella il cavolo qua è d'estate inverno non se ne trova quindi no ma tu l'ha fatto non meno perché io cucino prima e me congello un po meno guardate ragazzi va bene noi stiamo mangiando questa questa pietanza fresca molto leggera almeno ammortizziamo il fresco perché sennò che senso ha che è fresco con una pasta fresca eccetera ma che c'è allora se ti faccio la pasta fresca accendi la stufa e convenzi vabbè ragazzi buon pranzo a voi e a me buon pranzo